Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua su Blair, su Roblox, compagnia di Ciro e Picant, ragazzi, ciao a tutti, benvenuti, benvenuti, benvenuti a questo nuovo video sul mio canale e vi devo dire, come proposto, grazie un milione per un milione di views. E cosa dobbiamo prendere? Ecco Picant che c'è. Allora, cosa dobbiamo prendere qua? Questo è l'accelino, quindi prendi la torcia viola e la torcia gialla. La torcia viola è quella infrarossi. E la torcia gialla? Gialla, fatto. Ok, e prendi quella telecamera qua in basso. Oh, io voglio il termometro. Peglia il termometro, allora, P.V.A. telecamera. MF. Accendino. Oh, ma perché si muove da sola al visuale? Ma, però, ma possiamo appena ciro. Trodetti, c'è un cittino a testa. Ok, fatto. Io ho le due torce. Aspetta, è stato sacchietto con la GoPro? Non si può, equipaggia Headcam? No, corsa, si parla. Allora, quanti, come si può? Prova a scambiare oggetti, però a cambiare oggetti. e vabbè andiamo aspetta la V devo mettere attiva e disattiva radio V rosso cosa vuol dire? deve stare verde o rossa? deve stare verde perché guarda posso fare così se è verde ma anche a voi vi resta tipo la visuale se è verde e io guardo vabbè si può seguire un mezzo crocifista fammi luce ma ho perso l'erme luce viola cero come è perso l'erme fb4 ah lo so che c'è il termometro si usalo? devi sempre usare e allora devi trovare la stanza la luce devi trovare no no devi trovare la stanza gialla c'è la stanza con la temperatura bassa vini 19,8 vieni qua vieni qua aspetta Ciro è qua starà no 19,19 16 16 no è troppo ancora alto e quanto deve stare a basso? è tipo 0,1 ah vabbè deve stare a 0,1 c'è la Ouija 19 19 accendo le luci Ciro no non è meglio null qua ha scelto dei rumori Ciro 19 19 annunze di l'annunze di assenza del bambino nasconditi nasconditi a chi io vedi questo non puoi non puoi non puoi non puoi non puoi non puoi ma io sono qua chiuso in Ciro non puoi non puoi c'è un tizio mi sono fatto a piacere che c'è un tizio sono qua della nonna Ciro Ciro hai 50% di sanità di cosa? Ciro seguimi girati no sono fuori non ho crocefisso sono un crocefisso io non ho fatto ma vieni che non c'è nessuno non vedi mi stava un tizio che mi stava ammazzando mi stava per fare buco eh il crocefisso è salvito io vado giù in cantina sì ma io non trovo venite giù in cantina ma non c'è freddo Ciro il campo dell'annuncio di l'umbo non c'è dove stare il bambino mini foodie ti aspetto e dove stare il principale aspetta la stanza la stanza del bambino no no vieni all'inizio vieni all'entrata qua c'è il garage arrivo esco dal garage ciao Ciro mamma mia mamma Ciro ma perché ti cacchissoso non c'è nessuno non c'è nessuno c'è la tutta la casa ma hanno messo due volte andiamo Ciro guarda dove sono venuto io ma stavo qua non stavo qua prima la cantina che cacchissoso ma qualcuno ha l'MF ce l'ho io non preoccuparti puoi venire ma pure picchissi cacchissoso ma sampo è qua dovrebbe essere ma vieni qua che non c'è Ciro guarda sono in cucina allora c'è c'è il pane sono in cucina a destra no no vieni all'inizio stavolta mi preparo oh vieni vieni è caldo non vedi che è caldo no di qua di qua dove e io sono venuto di qua che c'è il bagno guarda no di qua no di qua seguimi seguimi qua c'è il bagno dove mi sono messo prima tu dicevi no c'era stanza qua devi aver paura qua non c'è nessuno qua c'è la mosso mannaccia a te Piquant avvisa come stai non venite di qua segui a Piquant ma dov'è non c'è non c'è nessuno Ciro sono già stato qua io non c'è niente hai detto tu no deve essere più freddo 11 gradi attenzione 11 gradi raga 11 10 sta scendendo la temperatura che bisogna fare le parto neonato sta scendendo Ciro qua di fronte di me sta scendendo la temperatura 10 a 7 10 a 6 ok entri un attimo dentro l'armadio qua non è temperatura 10 a 5 10 a 5 10 a 4 Piquant allora la cam sai come si piazza no accendida clicca il tasto sinistro ok clicca lt per piazzare a terra fermi dai fermi fermi dai Ciro non spammare 9 gradi attenzione lt per piazzare piquant lt per piazzare 970 Ciro 960 960 piquant piquant quella scatola è puzzle anzi devo scrivere quella sciata 940 947 946 942 Ciro stanno andando giù ma siete dentro voi ai 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 sento rumori sento rumori sentite che voi 920 Ciro sta scrivendo no devo fare così per far cosa del mosso se risponde ma la temperatura com'è 870 Ciro quanto deve andare questa temperatura eh eh dipende 3 3 3 3 gradi sarà sotto 0 no 3 era 3 vediamo ha scritto maschietteman ha scritto dei simboli Ciro o o è evenant o è 8 7 ma si vabbè ma tutta la casa fa freddo l'ultima chance abbiamo 20 gradi comunque sta lì perché là fa 20 gradi qua qua sono 19 mamma mi sono perché è cambiata ma non hanno giornato un bel po ma come è cambiata non è successo niente Ciro non ho visto niente io no la casa l'hanno cambiata vabbè era ora ok sample o shade o è av perché hai 45 di vita no sanità quella appunto perché sei sanità 45 eh no è la vita la sanità mi hai fatto impazzire no finché la vita è una società se macchiappa bye bye forza forza la forza di la forza dell'attività cosa pico lo spirit box ha risposto no no di quante rimane mancano solo se ci sono delle impronte per caso hai dovuto spegnere un lavandino no non c'è l'acqua che sconeva ho usato c'è un ultravioletta no devo vedere la temperatura io ciro la prima già trovata la serve l'altra violetta quindi c'è un c'è qualcosa qua che è acceso dove non sentire acqua che scone qua qui vicino dietro dietro all'inizio acqua che scone ma solo tu sei ma c'era tu ti fai sogni brutti mi pare sta qua spegni l'acqua dove ma dove sei vieni vieni acqua dimmi se c'è delle impronte qua su questo lavandino no c'è niente impronte sicuro no zero di zero non c'è niente ora andiamo fuori e sci e ombra vieni fuori vieni fuori aspetta che metto il termometro no veloce perché se ti arriva quello ti ammazza ma che ammazza che non c'è apri il p quanto tu apri il libro e metti shade ombra allora quanti gradi deve fare per 4 gradi può essere che c'è dove hai messo la tua camera 4 gradi deve essere sotto zelo allora che cacchio c'entra qua dove c'è cero c'è 4 gradi dove c'è deve essere meno di uno deve essere meno 4 e 18 però sta scendendo 4 e 2 3 e 99 sta scendendo però 3 e 80 vabbè non so è ombra è ombra è ombra filati è ombra andiamo a fare allora dai devi fare apri il libro la prima come c'è per il libro Xbox che devo mettere allora benshi spirito ombra ombra deve essere cerchiato di rosso ok andiamo fatto e che devo fare adesso uno di uno vieni qua vieni qua dentro veloce aspetta che no più quanto è chiuso fuori vediamo ooooh è Yurei niente va vabbè abbiamo guadagnato 10 vabbè sì ma non era lui quindi Yurei che cosa faceva questo Yurei non lo so però vabbè era una modalità facile una modalità facile già mi ha saltato ogni 70 volte va bene così ragazzi noi ci fermiamo qua quindi come sempre commentate se mi piacciono ragazzi ci vediamo in un prossimo video ciao ragazzi ciao a tutti ciao medici ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.